In attesa delle motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità di sette punti della legge Calderoli, l'autonomia continua a far discutere e dividere. Il costituzionalista Mario Bertolissi, ospite a Focus TG, approfondisce la questione dell'affossamento del referendum. Dopo la sentenza della Corte sarà possibile ancora espletare il referendum oppure la stessa avendo inciso su profili essenziali, anzi si dice di solito sui principi ispiratori e sui contenuti normativi essenziali. Ecco, se questi sette profili che sono accolti e che comportano il declaratorio di incostituzionalità hanno questa caratteristica, cioè attengono i principi ispiratori, è chiaro che il referendum non si fa. E a questo punto sarebbe il primo cortocircuito di fronte al quale ci si viene a trovare, per cui la sentenza della Corte all'apparenza abilita toniti onfalistici perché in realtà il rinculo del cannone è quello che ti priva dell'iniziativa più importante. Intanto sul fronte politico le opposizioni attaccano. Il segretario del PD Veneto accusa la Lega di sacrificare l'autonomia per egoismi di partito e ambizioni di zaia. Un destino, quello dell'autonomia, che non credo si compirà e non si potrà compiere per il dilettantismo, per l'inadeguatezza con cui questo progetto è stato portato avanti. Una questione seria come l'autonomia doveva essere affrontata in altro modo, con risorse economiche a disposizione, con un percorso giuridico sostenibile e con il pieno concorso degli enti locali e delle regioni.